Vittoria schiacciante, quella del governatore Vincenzo De Luca, che come da pronostico si conferma alla guida della presidenza della regione Campania. Questa mattina ai microfoni di TV City abbiamo raccolto i primi commenti sui risultati elettorali. I cittadini torresi intervistati appaiono per la maggior parte favorevoli al rinnovo dell'incarico e sottolineano l'impegno di De Luca dimostrato durante l'emergenza coronavirus. Per me è un uomo così adeguato alle nostre situazioni, perché lui dice solo la realtà, poi agli altri non va bene perché comunque non si comportano bene per me, questo è il mio parere. Quindi lei è pro De Luca? Io sono pro De Luca. Speriamo che fanno le cose buone, niente di più. Le ha fatte queste cose buone secondo lei fino ad oggi? Qualcosa sì, qualcosa sì. Io mi auguro una sola cosa, spero che sia un po' meglio, perché comunque chi va va, siamo sempre nelle stesse condizioni. Si conferma alla guida della presidenza il governatore Vincenzo De Luca, un commento a caldo. Io come elettore solitamente voto sempre a destra, però sicuramente l'emergenza sanitaria è stata gestita da De Luca in maniera soddisfacente, nel senso che comunque è riuscito a evitare, almeno in una fase iniziale, poi adesso la situazione sta un po' cambiando, però almeno in una fase iniziale è riuscito sicuramente ad evitare il peggio qua in Campania, quindi mi auguro che faccia il meglio anche nei prossimi anni. Quindi sei fiducioso su questa presidenza, su questo rinnovo? Sì, sono fiducioso, sì. Ha saputo gestire bene durante il lockdown, quindi in media di questo non si può sperare. Noi siamo felici, io in primis ho votato per De Luca perché ha fatto tanto per il nostro governo, specialmente durante il coronavirus, ma si è visto comunque tutto quello che è stato fatto, quindi felici della sua vittoria. Ha saputo gestire l'epidemia? Certo, assolutamente, rispetto a tutti gli altri governatori dell'Italia, comunque è stato avuto il pugno fermo rispetto agli altri, quindi si è vista la sua presenza, quindi ben fatto. Come secondo i pronostici si conferma alla guida della presidenza il governatore Vincenzo De Luca. De Luca va troppo bene, perché qua ci vuole chi ci deve guidare. Quindi tutto sommato lei è d'accordo con il governatore Vincenzo De Luca e il suo modus operandi? Ho spiegato le mie difese per tutelarmi, però nessuno mi è venuto incontro a tutelarmi. Ci sono i lati positivi e negativi secondo me in qualsiasi candidato, in qualsiasi persona noi diamo fiducia, quindi poi parleranno i fatti secondo me. Ha saputo gestire l'epidemia secondo te il governatore De Luca in questi mesi? In parte, però è un compito difficile, cioè non alla fine giudichiamo, però ogni lavoro ha le sue difficoltà. A me mi fa piacere perché ci vuole qualcuno che veramente fa qualcosa per la nostra campagna. È stato l'unico che ha fatto, non come il signor Salvini che ci ha impangato il suo nome qui a noi torresi e napoletani. Quindi lei è pro De Luca? Sì, sono proprio per lui e ci credo in lui, qualcosa ci farà sperando a noi napoletani e torresi qua che stiamo un po' soffrendo tutti quanti noi.